Quinta corsa premio Molazzana, 1 Leica guidata da Gianmarco Bonafè, 2 Odigian Dall'Oglio, 3 Oristano ZN Lorenzo Baldi, 5 Ontario MP Lamberto Guzzinatti, 6 Orisseda Pedretti. In seconda fila, 7 Onice per Madonia, 8 Ornella Zarbe Chicchi, 9 Oceania Max Ballardini, 10 Oropuro Fabrizio Barbieri, 11 Ocagmo Aristide Srivellato, 12 Oggiada Roberto Odorici. Rompe Ontario MP, finisce in coda mentre scatta al comando Oristano ZN davanti al numero 1 Oleica. Oristano ZN numero 3 conduce Oleica numero 1 in seconda posizione affiancata dal 9 Oceania Max e seguita dal 7 Onice per che occupa la terza posizione alla corda. Insiste all'esterno Oceania Max mentre continua a condurre Oristano ZN seguito da Oleica. Onice per precede il resto del gruppo di una... Odigian in quarta posizione alla corda con il numero 2. Ai suoi fianchi avanza Oropuro numero 10 seguito dall'11 Ocagmo. Contaglio MP, squalificato. Sempre Oristano ZN nettamente in vantaggio, va a concludere adesso il chilometro in 1,20,8. Mantiene la seconda posizione Oleica numero 1. Superata poi da Oceania Max. A distacco è Oceania Max a seguire Oristano ZN. Poi il gruppo che si addensa su Oleica. Retta d'arrivo, solitario Oristano ZN si avvia a concludere la sua corsa di testa. Vince Oristano ZN con larghissimo vantaggio su Oceania Max. Terzo posto per Ornella Zare e quarto per Oropuro. Grazie. 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 Grazie.